Estrazione pulsante Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti! Sono un po' in anticipo forse, ma credo che a metà settimana gli auguri di Buona Pasqua si possano già fare, no? Non voglio fare un video polemico sulla religione, sul credo, non credo, nella Pasqua, nella Quaresima, ma ne sono già stati fatti su questo canale e non intendo ripetermi, anche se qualche volta succede di ripetersi, ma non sempre, per fortuna, ci sono tantissimi video ormai su questo canale, perché all'inizio quando ero partito ne facevo uno al giorno, adesso sono diventati uno alla settimana, poi c'è stato un po' di pausa, ma si sa, questo è un canale libero, un canale di evoluzione, e quindi tutti gli evolutori sanno prendere le cose con filosofia, con fantasia, con spirito di adattamento. Se volete iscrivervi a questo canale, iscrivetevi, fa sempre piacere, sarete informati ogni qualvolta verrà pubblicato un video. Oggi vorrei regalarvi l'uovo di Pasqua più bello, più completo, l'uovo di Pasqua che non fa male, che non ingrassa, che non aumenta il colesterolo, che non aumenta i trigliceridi, un uovo di Pasqua fatto di benessere. E come si fa ad avere questo uovo di Pasqua? Si fa imparando a meditare. Quindi io vi consegno, se volete, oggi nelle vostre mani, l'uovo di Pasqua della meditazione. Molti pensano che chissà cosa occorre poi per diventare dei bravi meditatori. Sì, è vero, forse una volta, inizialmente, una volta, qualche volta, inizialmente, una spinta può servire, un input esterno. Ma di base, per imparare a meditare, occorre una cosa sola. La voglia di farlo. La volontà di farlo. La convinzione di crederci che meditare sia importante. Occorre acquisire questa convinzione. Dopodiché, la meditazione avviene automaticamente. Basta sapere mettersi in ascolto di se stessi e tutto accade magicamente. La meditazione è rilassante, è arricchente, perché arricchisce la conoscenza di noi stessi, ci insegna ad ascoltarci e ad ascoltare. La meditazione è alla base di qualsiasi forma di guarigione mentale, a qualsiasi forma di benessere. La meditazione è importante. E' l'unica via per aprire la strada alla nostra felicità, alla nostra comprensione di noi stessi, al nostro benessere con noi stessi. Perché il problema è che se non stiamo bene con noi stessi, non riusciamo a distribuire il nostro amore e il nostro benessere a chi lo vorremmo distribuire. Non ce la facciamo se non stiamo bene con noi stessi. Noi non riusciamo a trasmettere il nostro benessere, il nostro amore, il nostro potenziale a chi vorremmo trasmettere. Perché non ci crediamo? Perché non lo sentiamo dentro, non lo avvertiamo? E quindi non possiamo trasmettere esternamente ciò che noi non avvertiamo internamente. Beh, forse possiamo arrivare a fingerlo, ma andiamo sempre a trasmettere un surrogato, una distorsione e non il nostro reale essere. La meditazione è importante. Imparare ad ascoltare il proprio respiro. Imparare a rilassare le nostre parti corporee. Imparare ad ascoltare solo il nostro respiro. L'aria che inspiriamo, che ci purifica, ci dà ossigeno, ci vitalizza, ci guarisce, è l'aria che poi buttiamo fuori. L'aria che respiriamo entra in noi, ci guarisce, ci tonifica. E l'aria che buttiamo fuori, buttiamo fuori dall'anidride carbonica. Quindi cosa significa? Che noi facciamo entrare in noi le cose buone, ciò che ci dà vita, ossigeno, e buttiamo fuori l'anidride carbonica. Ciò che ci fa male, ci è di scarto. Così come l'alimentazione. Noi mangiamo il cibo, assimiliamo proteine, vitamine, tutto quello che ci serve, e poi facciamo la cacca. Perché il nostro corpo va a despellere ciò che non gli serve, cioè lo scarto. Ed è un processo naturale. La respirazione e l'alimentazione sono i processi naturali. Ma non funziona così solo per l'alimentazione e la respirazione. Funziona così per tutto il resto, per tutti gli altri cicli. Quindi anche mentalmente, noi dobbiamo imparare a immagazzinare, tenerci dentro le cose buone, e così come fa il nostro corpo, così come fa i nostri polmoni, buttare fuori le cose negative, le cose che ci fanno male. Le cose che ci opprimono, le cose che ci ostacolano, le cose che ci fanno soffrire. Facile adersi, diranno molti di voi, ma difficile da farsi. La meditazione è sicuramente il primo passo per capire questo concetto e per capire ascoltando noi stessi cosa ci fa soffrire, cosa dovremmo cambiare noi stessi. La meditazione e la lettura di noi stessi è la prima chiave per aprire la porta evolutiva. Quindi passate una Pasqua in meditazione, al di là del vostro credere o non credere. Credere o non credere oggi è abbastanza difficile per tutti, perché ci sono informazioni molto confuse e prive di risposta, sia dalla parte scientifica che dalla parte religiosa e spirituale. ma in realtà se andate a cercare, specie nella parte spirituale, troverete molte risposte che vi mancano e che credo valga la pena di trovare. Sto parlando di parte spirituale e non di parte religiosa, che è tutt'altra cosa. Anche questa, anche la parte spirituale la si ottiene con la meditazione. Ma qui andiamo in un discorso molto complesso che oggi non va fatto in questo video. Perché questo video pasquale è un video di augurio, è un video molto leggero. È un video che vuole portare all'approccio con la meditazione di base, la meditazione quella che si può fare tutti i giorni, più volte al giorno. Quella che è possibile esercitare prendendo 5 minuti per dire adesso penso a me. voglio ascoltare il mio respiro, voglio pensare a ciò che ho dentro, alle mie emozioni, alle mie sensazioni, alla mia gioia, alla mia tristezza, al mio essere felice, alla mia depressione. Da cosa è provocato tutto questo? Da cosa è dovuto? Mi sento soddisfatto? Non mi sento soddisfatto? Mi piaccio? Non mi piaccio? sapete che ognuno di noi dovrebbe piacersi fino alla morte per quello che è, non per quel che deve essere. Poi certo, ha tutto il diritto di migliorarsi. Io mi piaccio tanto, io sono un figo della Madonna, certo, posso migliorare? Sicuramente sì. E in certi frangenti lo faccio anche, l'ho fatto anche. ma non devo migliorare per piacere agli altri, devo migliorare perché io ho l'esigenza e il desiderio di migliorarmi, per una questione mia magari di benessere, di salute, ma per me. Io devo farlo per me. Agli altri devo piacere per quello che sono, così come a me stesso devo piacere per quel che sono e non per quello che vorrebbero gli altri che io sia. Oggi si sente tanto parlare di relazioni mancate, di relazioni difficili, di coppie che si dispano. Perché? Perché noi cerchiamo sempre in maniera molto condizionata, molto suggestionata, siamo molto ipnotizzati da questo, dai media, dalla nostra cultura, dalla nostra società. Noi ci preoccupiamo ad essere ciò che gli altri vorremmo che noi siamo. Non ci preoccupiamo mai di essere come noi vogliamo essere. Perché l'adattamento di come gli altri ci vogliono è sempre presente, è sempre costante, è sempre forte. e questo va assolutamente tolto con la meditazione. Noi dobbiamo meditare per rendere felici e per piacerci noi. Quindi io vi auguro una buona Pasqua all'insegna del buon cibo, salutare sicuramente, all'insegna della volontà alla meditazione. Fatevi questo regalo, è molto importante. Allora questa Pasqua potrà avere un significato? Allora anche voi potrete dire io in questa Pasqua sono risorto dalle ceneri del malessere o quantomeno ho aperto ho aperto la strada alla risoluzione all'uscita dalle ceneri del malessere cercando di sforzarmi alla meditazione. La base della meditazione ripeto non è difficile. Si basta sdraiare, chiudere gli occhi, rilassarsi, ascoltare il proprio respiro, la propria anima, ai propri pensieri non distrarsi tre minuti al giorno poi cinque poi dieci poi un quarto d'ora ma deve essere sacro quel quarto d'ora in silenzio in ascolto di noi stessi in ascolto del nostro respiro del nostro cuore non avendo mai paura di rilassarsi troppo cercando di sentire il nostro corpo sempre più leggero di staccarci dal nostro corpo. Provatelo tutto il resto viene da sé e qualsiasi pensiero vi passerà per la testa lo elaborerete in relax con tanta dolcezza con tanta disinvoltura ma vale la pena lasciarsi andare in meditazione con noi stessi. Buona Pasqua a tutti!